Musica Buonasera, ben trovati. L'11 gennaio scorso è stato consegnato alla CIO il dossier della candidatura Milano-Cortina ed è partita la corsa ai giochi olimpici del 2026. Ne parliamo questa sera con il vicepresidente della comunità montana Alta Valle Remogalli. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Con il vice sindaco di Val di Dentro, Claudia Martinelli. Buonasera. Benvenuta anche a lei. Con il presidente dell'associazione Schipas Livigno, Giorgio Zini. Buonasera. Benvenuto. Torniamo su questo tema perché, come avrete capito, è un tema che ci piace. Anche per aggiornare il territorio su alcune novità importanti che riguardano questa candidatura, su cui abbiamo già detto molto, su cui abbiamo già sentito tanto, ma su cui continueremo a parlare. Invitato ma assente il comune di Bormio, sicuramente vi saranno altre occasioni come queste per parlare di questa candidatura. Ci auguriamo ovviamente che possano essere colte come un'opportunità. Ma entriamo subito nel vivo di questo tema, ovvero della candidatura olimpica, una candidatura che coinvolgerà l'intera Valtellina, anche se il tema prioritario su cui si è discusso lungo è stato proprio quello della ridistribuzione delle discipline, che è stato vissuto come un fattore determinante. Remo Galli. Ogni territorio ha cercato di far emergere le proprie qualità e quindi fino all'11 ci sono state molte discussioni, molti, diciamo, incontri per definire bene il dossier, ma finalmente l'11 c'è una candidatura ufficiale dove Bormio avrà tutto lo sci alpino, Livigno avrà il freestyle e lo snowboarda, mentre Val di dentro avrà tutto l'olimpiadi parolimpica. Quindi da oggi bisogna marciare uniti e essere uniti per vincere questa battaglia che sicuramente non sarà semplice, anche perché Stoccolma sta investendo molto, sta facendo dei passi avanti forti e quindi noi dobbiamo essere uniti, insieme a Regione Lombardia, per valorizzare il nostro territorio. In questi giorni molti mi chiedono perché è importante avere un'olimpiadi nel nostro paese, perché in Italia per fare delle cose ordinarie a volte servono degli eventi straordinari. E' già successo in passato, pensiamo a Expo che ha valorizzato tantissimo Milano, pensiamo che l'olimpiadi possa essere quel motore che ci permetta di risolvere grosse criticità che non sono solo legate puramente alle olimpiadi, come la viabilità e come ad esempio la sanità, che è importante anche nella scelta turistica di un paese. Gallia ha subito citato il ruolo dei grandi eventi rispetto allo sviluppo della montagna, Livigno nel suo piccolo lo ha potuto testare con i mondiali di mountain bike nel 2005, allora seguiva l'organizzazione proprio Giorgio Zini che era presidente di APT, ricorderà sicuramente l'emozione della candidatura quando ancora la risposta non c'era. Sì, allora i tempi erano un po' più stretti, la candidatura era partita nel 2002 e nel 2003 è stata assegnata, quindi tre anni poi per arrivare a realizzare un mondiale. Qua stiamo parlando di un livello, direi il massimo che lo sport propone, e quindi è necessario giustamente, se ci verrà assegnata, fare tutto un percorso dal 2019 alle Olimpiadi di Pechino e poi da Pechino arrivare a Milano Cortina e quindi da noi, perché è necessario ed è importante perché sono occasioni che poi non ripassano, quindi dobbiamo saperle sfruttare, ma per tanti motivi, valenza sia turistica, sia sociale, sia generale di servizi e di opportunità. Ecco, e poi naturalmente Olimpiade significa anche sviluppo e quindi probabilmente un grande evento di questa caratura potrebbe garantire un futuro agli impianti, ma non solo a tutte le infrastrutture. In particolare se devo pensare alla schiarea, che è la cosa che più di tutte adesso mi preme di seguire, se non riusciamo a sviluppare un progetto di collegamento veramente delle località, non so quando riusciremo, quindi questo è sicuramente uno degli obiettivi anche per investire nel nostro futuro, in questo caso invernale, ma anche estivo, perché poi gli impianti di risalita sono ormai, vediamo, hanno una fruizione anche estiva, un'importanza di collegamento e di sviluppo di attività, non solo legate allo sci, ma creare una rete più possibile larga, sviluppata dalla Svizzera verso Santa Caterina e oltre, ci consentirebbe davvero di garantirci, almeno per qualche decennio, uno sviluppo per il territorio importante e soprattutto valorizzare anche quelle stazioni intermedie, penso alla Val di Dentro, alla stessa Santa Caterina, che collegate in un comprensorio unico sono veramente importanti e possono creare nell'immaginario collettivo veramente una visione di montagna unico. Prima di parlare poi delle discipline, dei ruoli di ogni singola stazione, vorrei proprio sviluppare meglio questo tema, questo tema dello sviluppo territoriale nel suo complesso è stato analizzato, ne avete discusso per esempio in comunità montana con tutti i comuni? Diciamo che quello che dicevo prima, già da qualche anno in comunità montana c'è un progetto depositato che abbiamo presentato anche qui a Telemonte Neve, che è il piano Gasser, questo piano di collegamento da Livigno fino a Santa Caterina. L'obiettivo di questo piano è proprio quello di collegare le località anche per uno sviluppo futuro, non possiamo pensare che Livigno cresca ancora in termini di ricettività o di edificazioni, ma collegando altre località si può portare alla sostenibilità ambientale anche degli impianti attraverso la sinergia con i paesi vicini. Nel dossier c'è la presenza degli impianti da sci come futuro e quello che dicevo prima, oggi abbiamo una regione Lombardia che considera un impianto da sci de grado ambientale, con le Olimpiadi speriamo di fargli cambiare idea, insomma, perché per noi rappresenta davvero come una metropolitana a Milano e permette di muoversi in maniera pulita rispetto all'utilizzo oggi delle auto, magari per passare da Santa Caterina a Bormio, se avessimo un impianto sicuramente le emissioni diminuirebbero tantissimo. Un tema appassionante sicuramente è quello del collegamento delle stazioni di cui avete discusso anche in Val di Dentro? Sì, certo, è un tema che è stato affrontato in comunità montana già da qualche anno, sicuramente per valorizzare l'intero comprensorio è necessario fare delle scelte anche, come dire, ambiziose, un po' coraggiose, sperando che poi chiaramente ci diano seguito, che aumentino il pool dei turisti che scelgano le nostre località. Ci sono località in Italia in cui i comprensori sono vastissimi e quindi per stare al loro livello è necessario sicuramente fare queste scelte un po' audaci. Questa sembra essere quasi l'occasione della vita, cioè che se non sarà colta sarà la grande occasione persa. Il territorio dovrà farsi trovare unito nel caso in cui dovesse vincere la candidatura. Abbiamo però spesso visto come anche in territori così piccoli, limitati come i nostri, questa unione di intenti sia venuta un po' meno. Ci sarà, secondo lei, secondo il suo punto di vista e anche secondo la vostra linea politica, quest'unione di intenti finalizzata proprio a focalizzare l'attenzione su quelli che sono i temi cruciali di sviluppo del territorio, perché sicuramente non ci sarà un'altra occasione, non ci sarà un piano B che permetterà di andare a incidere su questi punti. Ecco perché, dicevo prima, andiamo subito al sodo. La ridistribuzione delle discipline, sì, è importante perché ognuno vuole emergere, vuole mostrare le proprie peculiarità, le proprie bellezze, ma in realtà questa è un'occasione più unica che rara per risollevare le sorti della montagna. Quindi lo sviluppo dell'area sciabile, visto come collegamento non solo per, proprio come mezzo, come sistema di mobilità del territorio, potrebbe essere al centro di questo tema, di questa candidatura? Certo, sicuramente. Diciamo che queste Olimpiadi sono state concepite nell'ottica del risparmio, della sostenibilità, per cui si è dato valore alle strutture già esistenti per cercare di avere meno impatto economico nella realizzazione proprio degli stadi, delle strutture. Però chiaramente privilegiando queste località che magari hanno già le strutture, quindi hanno già avuto sul proprio territorio delle gare, delle competizioni di livello, non si vuole sminuire tutto il comprensorio. Io direi che sono le Olimpiadi del comprensorio Alta Valle, ma non solo, di tutta la Valtellina, di tutta la Lombardia. Dobbiamo crescere nell'ottica della sostenibilità, ma anche della collaborazione reciproca. È necessario fare squadra e non pensare che le Olimpiadi siano un punto d'arrivo, ma bensì un punto di partenza. E soprattutto lavorare, secondo me, in questi anni anche per, come dire, dare ancora più credito alle discipline sportive, farle apprezzare di più ai giovani che comunque le stanno abbandonando. Le discipline sportive invernali, almeno parlo di Valli Dentro, non sono più così amate come un tempo. Per cui riavvicinare il territorio, i residenti a queste discipline, riavvicinare i turisti e fare comprensorio, fare squadra. Sì, assolutamente. Ma non perché le Olimpiadi siano il termine, ma che siano da volano. Sì, non come punto d'arrivo, ma di partenza. Esatto. Ecco perché, dicevo, potrebbero essere l'occasione della vita, perché riorganizzarsi come territorio per una grande manifestazione come questa, significa proprio mettere sul tavolo quelle che sono le reali esigenze del territorio. Per cui non cercare magari di ottimizzare il proprio orticello, ma di guardare in un'ottica più ampia. Prego, Zini. Io da questo punto di vista credo che non è che dobbiamo pensare che le Olimpiadi, cioè senza le Olimpiadi allora non possiamo fare niente. Anzi, secondo me il punto di partenza è proprio questo, cioè la consapevolezza innanzitutto che il comprensorio è l'unica possibilità a prescindere dalle Olimpiadi. L'Olimpiadi è un'occasione per raggiungerlo magari in modi, in tempi migliori e per farci magari conoscere con tempi più rapidi. Ma questo progetto deve andare avanti a prescindere, cioè se noi a giugno per qualsiasi motivo non sappiamo chi vince uno o vince l'altro, cioè noi comunque questo obiettivo dobbiamo averlo in mente. Magari dovremmo fare altri tipi di ragionamenti, ma non possiamo solo sperare che sia l'Olimpiadi e risolverci i problemi. Su questo credo che sia giusto dirlo, se no sembra quasi che... Io ho detto nel caso in cui si dovesse vincere la candidatura sarà molto importante focalizzare l'attenzione su progetti comuni e quindi non su progetti singoli. Nel caso in cui si vincesse avere le idee chiare su questo, perché altrimenti torniamo ai soliti ragionamenti, io vorrei questo, io vorrei questo, io vorrei questo e non si va da nessuna parte. Quanto è importante lo sviluppo dell'area sciabile per lo sviluppo e la sostenibilità economica della montagna? Credo che per l'Alta Valtellina sia fondamentale. Fondamentale anche in caso di assegnazione alla Svezia, quindi questo tavolo o questo progetto comune dovrà essere portato avanti, anche per una ragione molto pratica. Abbiamo detto sì di comprensori italiani molto vasti, noi però abbiamo qualche vantaggio rispetto a tanti altri che è la quota, cioè la quota che ha mediamente questa zona, da Lengadina, Livigno, Santa Caterina, è una quota che ci consente, ci garantisce rispetto ad altre località, una possibilità di sopravvivenza ancora maggiore rispetto ad altri, anche nella produzione neve, nel garantire. I cambiamenti climatici ci stanno dicendo che sarà una selezione naturale. È un punto a nostro favore che dobbiamo giocarci assolutamente in questi tavoli e non possiamo prescindere. Questo tema del collegamento è un tema fondamentale. Sono certo, o quello che dicevo prima, avendo, sperando nelle Olimpiadi, anche chi dovrà portare poi avanti negli uffici, nella burocrazia, tutti questi vincoli che oggi abbiamo e che dovremmo cercare di togliere, se avrà un obiettivo, una scadenza che è il 2026 sarà più rapida, altrimenti dobbiamo comunque andare avanti e cercare di... Certo, sperando che però siano altrettanto rapidi i tempi di realizzazione perché se ne parla purtroppo da tantissimi anni senza aver mai messo in pratica nulla, quindi di progetti nei cassetti ne avevamo già visti. Un altro tema sicuramente determinante per lo sviluppo della Valtellina sarà quello delle altre infrastrutture, quelle viarie, perché questa candidatura potrebbe voler dire anche che potrebbe andare a completare lo sviluppo delle strade in Valtellina. Questo è un altro tema all'interno del dossier, anzi era un tema anche che ci ha posto all'inizio della candidatura un po' in difficoltà, insomma la nostra lontananza non geografica ma con le strutture che abbiamo oggi, con le infrastrutture che abbiamo oggi da Milano e quindi io credo che aver confermato la Valtellina con Livigno, Bormio e Val di Dentro sicuramente porterà a un ammiglioramento, si parla già della tangenziale di Sondrio che venga allungata, la tangenziale di Tirano che non può più aspettare qui di parta, quindi sicuramente sarà un motivo per avere una strada decente, cosa che oggi non abbiamo purtroppo perché abbiamo dei tratti ancora mostrati dagli anni 50 che ci condizionano il turismo sicuramente. Un altro tema quindi sarà quello della viabilità. Quello della viabilità, quindi sia verso Milano ma poi sicuramente anche, visto che le Olimpiadi saranno una vetrina internazionale, è sicuramente anche quella verso a nord che ci preme da tanto tempo e che ci sentiamo a volte impotenti verso un tunnel ad esempio che ci condiziona nella programmazione turistica di tutta l'Alta Valle perché oggi il tunnel del Gallo rappresenta diciamo d'inverno una grossa fetta di mercato e non avere quel passaggio a nord rappresenterebbe un disastro per tutti i nostri operatori. È d'accordo? Assolutamente, da questo punto di vista aggiungo solo che per quanto riguarda la viabilità della Valtellina può creare sicuramente un miglioramento anche turistico ma più importante proprio per la qualità della vita nostra e sicurezza nostra che la viviamo e la frequentiamo regolarmente. Da un punto di vista turistico non so se poi l'effetto sarà quello di un maggior afflusso di turisti o di che tipo di afflussi perché dobbiamo stare anche attenti che Livigno paradossalmente il suo isolamento invece è diventato per certi versi un suo punto di forza perché ha creato delle condizioni per cui il turista che vuole decide di venire a Livigno decide di starci qualche giorno. Avere un'accessibilità è brutto dirlo ma troppo immediata favorisce se non si fanno altre scelte strategiche importanti un turismo di uso e consumo giornaliero come già avviene. Quindi io vedo il collegamento verso Milano soprattutto per migliorare la nostra qualità della vita di noi che ci viviamo e quindi anche nel turista che viene. Però non ci risolverà di sicuro i problemi secondo me il turista. La viabilità verso nord credo che invece sia essenziale garantirla invece per uno sviluppo turistico di tutto il comprensorio perché verso nord abbiamo 500 milioni di potenzialità. Contra 50 milioni verso sud. E poi ci proiettiamo in Europa. Non dobbiamo dimenticare anche la ferrovia insomma. Con pochi interventi di raddoppio di scambio di binari si potrebbe ridurre di 20-25 minuti il passaggio da Sondrio a Milano con il treno. Basterebbe anche garantire questi collegamenti. Garantire però anche se si riuscisse a ridurre i tempi di percorrenza per tutti i lavoratori e anche per tutti gli studenti che ogni giorno si devono recare a Milano. Questo è importante perché poi tutte queste strutture devono rimanere poi per i giovani, per chi vive in questo territorio. Nel dossier è stato previsto questo collegamento verso nord oppure no? Nel dossier oggi diciamo che per spiegare la candidatura dovremmo partire un pochettino da lontano. Insomma questa candidatura nasce con una candidatura triplice. Milano, Cortina, Torino. Torino per varie vicissitudini viene... Si è esclusa. Si è esclusa. C'è una posizione del governo ad oggi abbastanza diciamo attendista perché di fatto con l'esclusione di Torino c'è stata la volontà di Veneto e Lombardia di andare avanti però garantendo loro la candidatura quindi anche a livello economico. Quindi diciamo che una volta scelta la candidatura, quindi una volta scelta la località che avrà sede alle Olimpiadi del 2026 sicuramente ci aspettiamo che anche il governo faccia la sua parte. Però a quel punto sicuramente potranno entrare magari tante cose che oggi nel dossier non sono presenti perché è stato complicato completare questa candidatura insomma. È stata un po' sofferta. Malagò peraltro ha anche dichiarato che nella candidatura nel caso l'Italia vincesse potrebbe rientrare ancora anche Torino per cui... Secondo me è difficile. Quello che è certo è che dopo la candidatura si potranno riaprire tutti i giochi anche delle sedi dove sono le gare quindi tutto è abbastanza ancora con un punto di domanda. In discussione. Certo. Di fatto sono 14 siti olimpici previsti divisi in quattro cluster. Milano, Valtellina, Cortina e Val di Fiemme. Quindi nel capoluogo Lombardo se non sbaglio ho anche i pattinaggio artistico e short trek in Valtellina. Le piste di Bormio che ospiteranno le gare maschili di sci alpino. Alivigno, snowboard e freestyle. A Baselga di Pinè e in Val di Fiemme il pattinaggio di velocità, pista lunga. A Tesero il fondo, apri dazzo, salto con gli sci. Cortina sarà protagonista con lo sci curling, sci alpino femminile. Poi ci saranno ancora poi Bob, slittino, skeleton, biathlon, ad Anterselva, eccetera. Ci saranno poi 15 giorni dopo le Olimpiadi le Para Olimpiadi e la Val di Dentro con Milano e Cortina sarà sede di gare. Saranno solo tre le località ospitanti. Sì, Val di Dentro ospiterà 38 delle gare previste su 80 delle Para Olimpiadi. Quindi verranno assegnate a Val di Dentro 38 titoli parolimpici. Secondo il dossier dovremmo ospitare lo sci nordico e il biathlon. E quello che ci rende più orgogliosi è proprio comparire tra le due sedi olimpiche, cioè Milano e Cortina, come unica altra sede delle Para Olimpiadi. Vogliamo anche spiegare a chi ci sta seguendo perché è, tra virgolette, naufragato anche il sogno di Val di Dentro di ospitare le gare olimpiche? Dunque, Val di Dentro ormai da qualche anno ha un poligono di tiro di 30 sagome elettroniche che ha ospitato un Alpen Cup nel 2017. Quindi diciamo che accarezzavamo il sogno di poter ospitare un evento olimpico perché ci sono tutti i presupposti per ospitarlo. Manca lo stadio però questo non avrebbe dovuto costituire un grossissimo problema. E c'è una pista che comunque di tutto rispetto, una pista che si segue interamente, gli spettatori riescono a seguirla interamente soggiornando in qualsiasi punto della pista. Quindi i dislivelli sono ottimi. Quindi avevamo proprio tutte le credenziali per poter ambire a questo evento. Anter Selva ha una storia legata al Beatron che non ha nessuna località in Italia, per cui diciamo che i vertici del CONI hanno preferito aprire le porte ad Anter Selva anche se non era una località di Lombardia e Veneto perché con la sua gara di Coppa del mondo, l'abbiamo visto la settimana scorsa, attira un sacco di spettatori, un pubblico proveniente dalla Mitteleuropa che è affezionato ad Anter Selva e forse diciamo che questo nome avrebbe attirato queste persone. Ecco, avrebbe reso popolare anche l'evento olimpico italiano. Possiamo altresì aggiungere che anche Livigno ambiva ad ospitare il Beatlon. Ma diciamo che, come dicevo prima, la partenza, cioè in questi mesi abbiamo vissuto un po' di tutto, insomma, era difficile coordinare il Veneto con la Lombardia e devo dire che c'è stata anche una maturità da parte delle amministrazioni sia di Livigno che di Val di Dentro perché Regione Lombardia era molto decisa a tenere il Beatron in Lombardia. È stata, diciamo, sacrificata per portarsi a Bormio tutto lo sci alpino. Quindi lo sci alpino è sicuramente la disciplina regina. Non potevamo avere le Olimpiadi Milano-Cortina non avendo la Stelvio e quindi siamo ben felici, almeno siamo ben felici di avere insieme magari sacrificato o a Livigno o a Val di Dentro il Beatlon per avere tutto lo sci alpino a Bormio perché siamo un territorio unito e quindi questo secondo me è positivo, insomma. E tra le tante ipotesi vi era anche quella di, prima che appunto si affermasse la candidatura a Milano-Cortina, vi era anche quella ipotesi poi naufragata di abbinare o di ospitare le gare in strutture mancanti in Valtellina e in Engadina. Sarebbe stato anche questo bel binomio. Anche se questo percorso era inverso, cioè era nato quando San Morse era candidata per ospitare come Grigioni, insomma, le Olimpiadi e avrebbe chiesto probabilmente il nostro supporto. Così non è avvenuto perché è naufragata la loro candidatura, poteva essere una candidatura al contrario, quindi l'Alta Valle con San Morse invece le cose sono andate diversamente. Credo che comunque... Io ho fatto nel 92 le Olimpiadi ad Alberville e vabbè non erano così distanti come venivano chiamate le venue, però io facevo freestyle ed ero a Tigne, ero a due ore di distanza da Alberville che non ho mai visto se non per la cerimonia di apertura e di chiusura. Il fondo era le SESI che era completamente... diciamo che erano in una regione, la Savoia, ma anche quelle erano Olimpiadi assolutamente frammentate perché Val di Sera aveva lo Scialpino, Meribella aveva le donne, quindi un'Olimpiadi diffusa era anche quella del 92, per cui non credo che sia una... magari la novità oggi è che il territorio magari un po' più vasto consentirà di far uscire un tema della montagna italiana in maniera internazionale nei mercati anche emergenti e di questo possiamo solo che essere contenti visto che delle Alpi, l'Italia, quella che detiene il numero più alto di stazioni però nel mondo se parli di Alpi non viene il collegamento con l'Italia ma con la Svizzera e l'Austria e magari la Francia e questa invece sarà un'occasione per riaffermare che l'Italia è anche montagna e anche Alpi e l'Olimpiadi sarà un esempio importante e lampante. Due paesi candidati a forte tradizione sportiva, quale potrebbe essere il punto di forza del progetto italiano rispetto a quello svedese? Io il dossier non l'ho in realtà potuto vedere, l'ho solo letto, però sicuramente al di là di tutto Cortina, cioè il brand comunque Cortina e Milano di per sé comunque nel mondo hanno una valenza importantissima. Milano per tutto quello che ha fatto anche negli ultimi anni, Cortina perché ha già ospitato le Olimpiadi e perché nell'immaginario mondiale comunque è un brand che esiste ed è affermato. Quindi questo binomio lo ritengo da punto di vista internazionale vincente. Da Milano Cortina a Alpi italiane sarà un percorso su cui lavorare e impostare anche una... noi dovremmo essere solo che contenti di essere sotto un cappello di Milano e Cortina perché veramente il mondo punterà i riflettori su di noi e quindi lì dobbiamo essere splendenti e farci vedere sia da un punto di vista di gare, però quello credo che... non credo che ci siano grossi problemi perché l'organizzazione di questi eventi prevede dei protocolli molto rigidi e Livigno ha già dimostrato nel nostro caso freestyle e snobro. Abbiamo già fatto le finali di Coppa del Mondo del 2000 dove abbiamo non so quanti campi gara avevamo in contemporanea su due versanti proprio di snobro, di freestyle, avevamo aggiunto anche in quel caso il Telemar e quindi non credo che ci siano problemi da quel punto di vista lì. bisogna... è tutto il percorso per arrivarci e poi il percorso dopo le Olimpiadi che sarà importante condividere. Sì, però ovviamente adesso bisognerà capire quali saranno le motivazioni che porteranno il CIO a decidere per un paese piuttosto che un altro perché abbiamo detto le differenze non sono tantissime nel senso che hanno tutte e due una forte vocazione turistica e... Io credo che la Svezia... ...e sportiva... La Svezia comunque ha un limite che è quello che in realtà le Olimpiadi non sono tutte in Svezia ma c'è una parte che è tutta la parte... le slittiro così che sono in Lettonia e quindi a Sigulda vi sembra... quindi comunque fai passare un'Olimpiadi transnazionale insomma... Certo, diciamo che comunque il presidente del CIO Thomas Bach ha dichiarato che non vi sarà un piano B per il 2026 e che chiunque lo organizzerà tra questi due paesi lo saprà fare in modalità eccellente... questo significa che gli piacciono entrambe le candidature e che... possono sbilanciarsi adesso... Beh, naturalmente non si possono sbilanciare però... La Svezia non li ha mai organizzati e quindi questo è a vantaggio della Svezia perché comunque è una località cioè... È un paese che lo meriterete... Iniziano i... ci sono i mondiali di sci alpino adesso quindi ha comunque una visibilità, un'organizzazione, una... tutto quello che si fa in Svezia un po' come è stata la Norvegia, l'Ilehammer cioè sono Olimpiadi probabilmente che ti ricordi per tanti altri aspetti ambientali scenografici e di cornici di gente cioè sicuramente questo lo sentono e sarà... E ha anche già organizzati i mondiali perché ora ha già ospitato i mondiali... Sì 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 ecco quindi... Però la... io spero invece che la... l'Italia alla fine riesca davvero a far uscire anche qualcosa in più che spinga chi sarà al congresso anche perché credo, non so come funzioni ma sono tutti rappresentanti mondiali quindi gente che probabilmente è dello sci non so quanto sia... E quello che forse gioca a sfavore dell'Italia è che le Olimpiadi sono state per tanto tempo fuori dall'Europa e da Torino 2006 che sono fuori dall'Europa e riportarle in Italia forse creerebbe un doppione... Forse la località... l'extra Italia può avvantaggiarsi per questo... Di questo aspetto? Sì. Sì diciamo che le ultime Olimpiadi sono state Olimpiadi che sono state organizzate diciamo in grandi città e quindi nelle montagne vicine, Sochi e poi Pyeongchang, però sono state anche Olimpiadi dello sfarzo e invece le prossime Olimpiadi saranno Olimpiadi tra virgolette low costo nel senso che si andranno a riutilizzare le strutture già esistenti, a valorizzare le strutture esistenti e da questo punto di vista chi ha presentato un miglior dossier probabilmente vincerà, nel senso chi sarà più credibile da questo punto di vista. Poi potrebbero anche influire le distanze o meno ma abbiamo visto che nella storia delle Olimpiadi le distanze vi sono sempre state quindi non so se sarà un limite il fatto che la candidatura svedese sarà... ...transnazionali. ...un atleta come la Ledecca che fa sia scelpino, femminile che snobor perché... ...sarebbe un problema per noi. ...da Cortina Livino diventa un po' un problema riuscire a... ...vista l'età di Esther Ledecca probabilmente lei non ci sarà ma qualcun'altra magari potrebbe voler seguire le sue orme. ...veramente ogni località organizzerà, avrà il suo pubblico, avrà anzi, crea un coinvolgimento molto più ampio del territorio. Dobbiamo sperare che i membri del CIO siano tutti goderecce e apprezzino la cucina perché da questo punto di vista dovremmo avere qualche chance in più. No, assolutamente. Secondo me il nostro tallone d'Achille sono proprio le Olimpiadi del 2006 di Torino, nel senso che noi arriviamo già da un'Olimpiade molto vicino. La nostra forza è l'italianità, è il fatto che comunque sui grandi eventi l'Italia ha sempre dimostrato di essere brava a organizzarli e poi un evento in Italia ha comunque una riconoscibilità anche per l'Olimpiadi stessa molto importante. Noi abbiamo sposato subito questo progetto proprio perché saranno Olimpiadi innovativa, saranno Olimpiadi low cost, saranno Olimpiadi che dovrà essere diciamo su misura per le popolazioni che ci vivono. Ci piacerebbe che queste Olimpiadi risolvesse davvero i problemi poi per le persone che vivono ogni anno, ogni giorno in questa località. Ad esempio dicevamo prima le strade possono servire per i turisti ma possono servire per raggiungere in un ospedale o per chi è lontano o gli impianti da sci per spostarsi da una crita all'altra. Quindi speriamo che sia questo l'obiettivo e quindi noi stiamo dando tutto per sfruttare questo treno che sta passando e non possiamo perderlo insomma. Naturalmente come abbiamo detto prima la Valtellina dovrà farsi trovare unita, dovrà far squadra. Un aspetto molto interessante di questa candidatura è che per la prima volta credo nella storia la montagna italiana e quindi le Alpi si presenteranno unite al mondo. E questa è la sfida secondo me importante da vincere. Da questo punto di vista sì, l'occasione è unica perché il mondo, e se andiamo sugli sport invernali, il mondo dell'aroscista sta cambiando. Non ci sono più solo i mercati europei, ci sono dei mercati nuovi, un mercato come la Cina che addirittura fa le Olimpiadi prima di noi. Quindi svilupperà all'interno di una quantità di popolazione impressionante, un numero di sciatori importante che sicuramente scierà in Cina, in Giappone, in Corea, ma poi la bellezza delle Alpi e il fascino delle Alpi sarà un argomento che affascinerà anche il turista cinese dedito allo sci che oggi non è ancora così numeroso, ma che in una prospettiva di tre anni per arrivare alle loro Olimpiadi e poi quattro per arrivare da noi, crescerà in maniera, dicono, esponenziale. Per questo percorso, noi possiamo avere un vantaggio competitivo rispetto agli altri perché possiamo usare la leva della cultura alpina, ma il fatto di essere la località successiva all'Olimpiadi ci consente di essere protagonisti alle Olimpiadi fra tre anni e quindi di poter giocarci un percorso che altri magari o hanno già fatto come la Svizzera o che invece faranno più fatica a farlo a livello di comunicazione. Però non basta dirlo, c'è poi un percorso che dovremmo fare all'interno di tutto il territorio perché non è un mercato che bisogna conoscere, bisogna saperlo affrontare, accogliere e per poter avere almeno la soddisfazione sia nostra che loro. Però ricordiamoci che il mercato dello sci oggi va anche su questi mercati. Ecco, dicevo prima in apertura appunto che queste sono, diciamo, occasioni che i cui benefici avranno effetti per anni e quindi ecco perché essere uniti, fare lobby, sarà determinante e da questo punto di vista potrebbe essere l'occasione anche della vita. Comunque credo che il sogno di accarezzare un'Olimpiada in casa sia il sogno di chiunque a maggior ragione dei miei ospiti che seppur a livelli diversi sono stati tutti atleti. Dico bene? Sì, io non posso vantare una partecipazione alle Olimpiadi però ero una sciatrice anch'io. Ecco, speriamo che nel caso di vittoria la Valtellina possa portare tanti atleti a questi giochi perché a Torino solo Livigno portò otto atleti e fu una straordinaria occasione. Speriamo che la Valtellina nel suo insieme possa portare tanti atleti in tante discipline a queste Olimpiadi. Certo, assolutamente. Secondo me la candidatura olimpica potrebbe veramente spronare tanti giovani ad avvicinarsi agli sport di montagna, praticarli con più assiduità, con più passione, in previsione di questo evento molto importante. Speriamo che questo costituisca un volano anche per lo sviluppo dello sport nelle giovani generazioni. Anche in linea con alcune scelte che sono state fatte, ad esempio, dello ski pass gratuito fino a 16 anni per tutti i residenti in Valtellina. La regione vuole promuovere già da quest'anno a fine aprile, fine marzo, due weekend, quindi quattro giorni per lo sci gratuito di tutti i residenti sempre fino a 16 anni della Lombardia. Quindi credo che tutto possa essere poi anche incanalato in una direzione che è appunto quella di far tornare i ragazzi ad amare, ad apprezzare, a conoscere il territorio dove in questo caso vivono, oppure che possono conoscere, perché poi sappiamo diventeranno a loro volta genitori. E questo potrebbe essere. Lo sport è un veicolo importantissimo, oltre che per un benessere fisico, anche proprio per un altro modo di socializzare, di stare nella community, che esiste anche nella montagna, non esiste solo virtuale. Certo, quindi una candidatura che potrà orientare anche le politiche giovanili. Le conclusioni, Galli? Beh, un sogno, questo sogno durerà fino a giugno, poi vedremo se... Se ci risveglieremo bruscamente o se continueremo a sognare. Spero solo che davvero possa rappresentare le Olimpiadi per i nostri territori, per la nostra gente. Quindi, lo dicevo prima, ad esempio insisteremo molto sul discorso della sanità, perché se arriveranno le Olimpiadi sicuramente dovranno essere adeguati anche i servizi sanitari che oggi magari, diciamo, vacillano un po' ovunque. Quindi, io spero che siano Olimpiadi che rappresentino un'opportunità per i nostri giovani, che rappresenti per il nostro territorio la possibilità di farci conoscere in tutto il mondo e ci giocheremo le nostre carte fino alla fine. Grazie Remo Galli. Grazie. Ringrazio Claudia Martinelli. Grazie a voi. E Giorgio Zini. Grazie. Grazie per la vostra attenzione. Grandangolo vi dà appuntamento a venerdì prossimo. Arrivederci. Grazie a tutti.